La memoria storica è importante, infatti quando la Sanremo Rally Team ha fatto richiesta di una petizione per intitolare questo pezzo di via ad Adolfo Rava con l'accordo della famiglia abbiamo dato subito l'ok e l'abbiamo intitolato in un giorno, il 9 di febbraio, scelto apposta dalla famiglia abbiamo intitolato questo pezzo di via e giustamente la memoria storica è ancora più importante qui perché da qui parte e arriva il rally di Sanremo e partono e arrivano un sacco di altre manifestazioni sportive e tutte queste ricorderanno mentre si faranno, mentre si svolgeranno ricorderanno il nome di Rava che campeggia grazie alla targa fatta apporre dall'amministrazione comunale su questo pezzo di strada che d'ora in poi sarà molto più importante. Era senza nome, gliel'abbiamo dato, l'abbiamo intitolato a un personaggio importantissimo per la storia motoristica sportiva della città di Sanremo e non solo direi a livello italiano ma anche mondiale quindi un giorno di ricordo e di gioia. Sì, un riconoscimento doveroso, una persona che veramente ha fatto tanto per la città forse non è stato abbastanza apprezzato in vita, almeno adesso mi sembra una cosa ben fatta e giusta. Riguardo la location, vi trova d'accordo, l'apprezzate? D'accordissimo, è bello, è dove partiva il rally, dove c'era il villaggio delle auto, sul mare c'è il sole, va benissimo. Oggi dovrebbe essere sicuramente la festa dello sport ma dello sport in generale perché un personaggio così non lo si può lasciare passare così inosservato. Fa parte della nostra storia come personaggio che ha portato in tutto il mondo il nostro mondiale e quindi la storia qua a Sanremo. E noi adesso siamo molto soddisfatti come Scuderia di essere riusciti a dedicare, a proporre al Comune questa targa che il Comune ha provato e quindi c'è un po' di emozione. Dolpho Rave è stato per me un grandissimo maestro, un esperto, uno che come diceva prima Antonio ci ha insegnato a soffrire per questa gara, amare questa gara e questa manifestazione e penso che come Automobile Club onoriamo la sua memoria mantenendo con una fatica enorme i rally di Sanremo e da quest'anno ci faremo carico anche dal rally storico. Per cui questo lo facciamo anche proprio per la memoria di Adolfo.